Oggi la situazione si è aggravata, la produzione industriale sta tornando indietro, assume un segno o meno, davvero davvero vistoso, cala il PIL, quindi la ricchezza prodotta nel paese e l'unica cosa che sale è lo spread. Siamo seriamente preoccupati, quindi abbiamo chiesto attraverso la voce di tante e tante migliaia di persone che il governo si fermi, cambi la sua linea economica, così ci porta a sbattere e insieme a loro anche tutto il paese e ci convochi. Fino adesso non abbiamo avuto nessun segnale dal Presidente del Consiglio, speriamo che ragionino sulle cose che quella piazza ha espresso, le ho spesso col cuore e con la testa e ci aspettiamo presto una convocazione.